Quaresima, forse alla fine sarai utile Ora, vai a sorvegliare i tunnel Impedisci a chiunque di passare Dove sono le uova? I buchi sono usciti dall'altra parte dei mondi del drago Abbiamo trovato alcune delle uova, ma erano troppo pesanti da portare indietro Gli altri! I mondi dimenticati Spiro, dovrai andare Nessun altro può entrare nei buchi Su, andiamo! Vai! Andiamo!